Noi partiamo da stamani, abbiamo già fatto una riunione stamani e stiamo organizzandoci per attivare da oggi le prenotazioni per la quarta dose oltre i 60 anni come chiesto dal Ministro. La Toscana è fra le regioni che ha sviluppato in questi due anni maggiormente la campagna di vaccinazione dal Ministro Speranza e dal Generale Figliuolo che oggi non svolge più le funzioni di commissario perché oggi è ritornato secondo l'ordinamento alle regioni la funzione, è considerata a livello nazionale un simbolo, un esempio. Siamo sempre stati in testa all'estensione della vaccinazione e forse anche per questo che oggi siamo fra le regioni che meno sentono questa ulteriore ondata. Però siamo proprio per questo convinti che la vaccinazione sia fondamentale perché è in virtù della vaccinazione che chi prende il Covid in realtà non va a finire all'ospedale, poi in terapia intensiva, ma se lo sa curare anche a casa con le indicazioni al medico di base.